E' un minchia, guarda! Quello rosso, questo rosso qua, è un 500 Che scarisca su? Eeeh, non ne ho idea Però non la resta soluzionale Sì, solo l'ultimale, comunque Suona Vai, accendo Devi vederla dentro Ciccio, sei proprio un r***o Sei un r***o Oh, l'ho detto prima L'ho detto prima Secondo me L'ho detto prima L'ho detto prima Secondo me è un uomo che si posi sotto delle tette Stai zitto, stai zitto, stai zitto